Abbiamo a cuore la tua sicurezza. Per questo in tutte le filiali a Centro troverai ambienti e vetture sanificate ogni giorno. Tutti i nostri dipendenti sono protetti con mascherina, gel igienizzante e plexiglass nelle scrivanie. Per garantirti la massima protezione. E con il nuovo servizio di videochiamata, ora puoi richiedere un preventivo direttamente da casa. Vieni a trovarci. Siamo in tutta la Sardegna. Un motivo in più per sceglierci nell'acquisto della tua auto. A Centro. Customer first. Un motivo in più.